Buongiorno, buongiorno amigli, allora vi invito tutti ad iscrivervi al canale perché domani mattina ci sarà un video su Vlaovic ed Eriksen, ok, miscellaneo, il pomeriggio un video assieme al Bruni, l'angolo del Kachavit, post Milan-Torino e pre-Fiorentina-Milan e la sera commenteremo l'Atalanta in Coppa Campioni, quindi insomma sarà una giornata ricca, invece stasera commentiamo questo risultato a sorpresa da questo luogo dove il vino scorre a fiumi, dico risultato a sorpresa perché non so voi, ma io mi aspettavo non tutt'altra partita ma tutt'altro esito, nel senso che mi aspettavo un Liverpool capace di andare ad atletico a vincere anche abbastanza in scioltezza, invece diciamo che questo non è successo, perché non è successo? Insomma per svariati motivi, allora adesso farò un paragone abbastanza ardito, ardiles, va bene, però un po' ci credo, il Liverpool stasera mi è sembrata una versione un po' più qualitativa della Juventus vista in Coppa Italia col Milan, nel senso una squadra che fa un grande possesso palla, una mole di gioco anche apprezzabile diciamo che mantiene la palla tra i piedi ma in modo tutto sommato sterile, in modo tutto sommato sterile ed inefficace. È stata una versione un po' più qualitativa di quella Juve che ho visto in Coppa Italia in settimana e questo perché? Perché secondo me il Liverpool ha sbagliato a non giocare in fascia, nel senso che secondo me ha sfruttato poco le fasce il Liverpool e ha preferito un gioco più per vie centrali, con un centrocampo che eccezionfata per Fabinho che mi è piaciuto, stasera secondo me non ha particolarmente brillato, ma oltretutto il centrocampo del Liverpool per me oltre a essere il reparto più scarso della squadra diciamo Stasera ha affaticato più del solito, è stato anche saltato in delle azioni piuttosto pericolose, non ho capito molto i cambi di Klopp, non so se fossero cambi conservativi per tenere i giocatori per degli impegni successivi, ma io capisco Salah che non ha fatto sta gran partita ma io Manet onestamente non l'avrei levato, piuttosto levavo Firmino per Origi ma Manet l'avrei tenuto onestamente e l'atletico cosa dire, l'atletico stasera è stato il solito classico atletico diciamo di Simeone che fa un catenaccio atroce diciamo per tutta la partita con tanta intensità, con tanta grinta, con tanta concentrazione, con tanta forza, spesso è stato asserragliato in area, ha avuto nelle ripartenze anche paradossalmente più occasioni del Liverpool reali perché il Liverpool sullo specchio della porta praticamente non ha mai tirato, mentre l'atletico oltre al gol di Saúl si è reso pericoloso di più del Liverpool per paradosso, però è andata così. Il Liverpool l'ho visto ripeto abbastanza sterile, abbastanza svagato, poco capace di allargare il gioco sulle fasce, di far uscire i difensori, è andato in bocca sostanzialmente allo schema atletico con una partita che si è messa veramente subito bene per l'atletico perché il gol è arrivato subito e questo ha permesso all'atletico Madrid di poi fare la partita dei sogni, tra virgolette, la partita dei sogni. Vediamo un po' i singoli, allora Oblak dell'atletico, ma non è stato praticamente mai chiamato in causa, quindi sarebbe da senza voto, gli do un 6. Versalico mi è piaciuto stasera, è un Versalico versione proprio colcio nera, versione simeoniana, e un 6.5 se lo prende così come Savic, ex Fiorentina assieme a Salah, Savic 6.5 tranquillamente, Felipe 6.5, Renan Lodi mi è piaciuto molto, era diciamo dalla telecronaca di Pardo, aveva detto che era un giocatore che aveva delle difficoltà, che non stava rendendo, invece stasera mi è piaciuto veramente tanto, gli do anche un 7, Koke 6.5 anche lui, Thomas 7, 7 più anzi, perché è stato, Thomas sembra il fratello di Kessy diciamo, il fratello cazzuto di Kessy, veramente un'ottima partita, Saul mi è sempre piaciuto, quindi gli do anche lui un bel 7.5 anche per il gol, che poi dite che sono di manica bassa e do i voti in scala dal 5 al 7, o anche dei difetti in ogni caso. Lemar, ma Kendrick, Kendrick Lemar insomma non è che mi sia piaciuto tantissimo, però gli do un 6.5 dai. Morata si è mangiato un gol sanguinoso, lo vedo un po', non lo so, mi sembra un po' abbacchiato Morata, mi sembra un po' abbacchiato, e gli do un 6 meno, 6 meno. Correa invece mi è piaciuto tanto, perché è veramente l'uomo di riferimento, abbina qualità, quantità, veramente un gran bel giocatore. Passando alle riserve, beh, l'Oriente ha avuto un discreto impatto, gli do 6, Diego Costa 6, però ha sprecato la possibile palla del 2 a 0, Vitolo 6. Per il Liverpool, Alisson, ma sul gol abbastanza incolpevole, gli do 6.5 anche perché ha salvato la partita nel corso di un'occasione specialmente, su un giocatore dell'Atletico che non ricordo chi fosse, prendendo la palla di ginocchio basso. Alexander Harden non mi è piaciuto, troppo confusionario, simile a Robertson, buona corsa ma scarsa precisione, 5.5, a lui e a Robertson. Gomez, bene, mi è piaciuto paradossalmente, buona gara. A Gomez do 6 più, a Van Dijk do un 6 perché comunque, cioè, oddio, no, 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 perché nell'occasione del gol Van Dijk ho qualche responsabilità, c'era 5.5. Anderson non mi è piaciuto, ora sarò cattivo ma io credo che sia un giocatore più di, non dico più di rappresentanza, però vedo più valori morali che tecnici per questo giocatore, in questo Liverpool, gli do 5.5. Fabinho gli do 6 più, è stato quello che mi è piaciuto di più a centrocampo. Wijnaldum abbastanza impalpabile, 5.5. Salah 5.5, anche lui non mi è piaciuto. Firmino 5.5, Manet 6 meno, devo essere sincero. Per quel che riguarda gli entrati, Milner comunque un 6, lo posso dare, Oxley Chamberlain poca roba, 5.5, Origi buona potenza, buona tecnica, ma anche lui in precisione, 5.5. E qui faccio anche il voto agli allenatori perché mi serve un po' da chiosa finale. Ma a Simeone diciamo lo conosciamo, nel senso che non si può chiedere bel gioco a Simeone, però ognuno ha la sua via alla vittoria, può piacere, può non piacere, ma quello rientra nell'alveo delle preferenze personali. Anche a me non piacerebbe andare allo stadio da una squadra che si chiude in area per tanto tempo, però va anche detto che l'Atletico sì, ha fatto un gioco di catenaccio, però non è che è stata proprio nella sua area di rigore per 90 minuti, dai, glielo si può concedere a Simeone, e Simeone oggi non è che ha fatto niente di particolare, ha portato se stesso, diciamo è una partita rappresentativa del suo essere allenatore, quindi gli do un 6.5, cioè lui allena così, lui è questo, quindi un 6.5. Klopp, ma cosa vuoi dargli a Klopp? Onestamente io lo sentivo che diceva alla squadra di allargarsi sulle fasce, penso che Liverpool sia anche un po', non dico sazio, però non l'ho visto con l'occhio della Tigre, secondo me a Liverpool tutto è aperto, nel senso che questo risultato qui poi un 1-0 non è che sia una cosa compromissoria, anzi a Klopp tutto sommato un 6 glielo do, perché ripeto non vedo particolari demeriti dell'allenatore stasera se non dal lato un po' forse motivazionale, e per i cambi, sì ecco i cambi devo dire che non mi sono piaciuti ma non me la sento di gettare la croce addosso all'allenatore per dei cambi discutibili, il Liverpool ha anche giocato, ci sono stati dei momenti in cui ha avuto delle belle trame, l'unica cosa è che non puoi, e spesso sta cosa succede proprio anche alla Juve, ho visto un Liverpool molto juventino degli ultimi tempi, nel senso che non è che puoi sempre portare il pallone in area, ti tic ti toc ti tac, cioè serve anche gente che tiri, che ad una certa, magari anche al limite dell'aria, pigli sta benedetta palla e provi a scaraventarla dentro, se no se aspetti di andare con la palla in bocca al portiere fai ora a vincerne poche di partite specie queste, specie queste dove hai una squadra che gioca col 4-4-2 praticamente nell'ultimo quarto di campo ed è bella che fatta, va bene allora iscrivetevi tutti per i video di domani, un caro saluto e buonanotte.